L'apertura il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sprona istituzioni di imprese ad una mobilitazione sul PNRR. Vediamo con Nadia Zikoski. L'Italia in questo momento è protagonista di un importante cambiamento reso possibile tramite programmi che l'Unione Europea ha propiziato con il Next Generation. Si rivolge a Union Camere Mattarella per incoraggiare piccole e medie imprese e lavoratori a proseguire sulla strada della ripresa con energia. Non sono tempi facili, dice le conseguenze della guerra scatenata dalla Federazione russa e l'inflazione minacciano la ripresa. Tuttora viviamo le conseguenze lasciate sulle economie dalla pandemia, aggiunge, ma il nostro sistema ha saputo sorprendere e dimostrare capacità inattese. Attenzione però alle diseguaglianze, raccomanda, non può esservi divaricazione tra economia e società. Per l'ultima spinta sceglie le parole di De Gasperi. Il momento per tutti, a partire dall'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di mettersi alla stanga.